La morte di Marco Pantani è molto di più di una tragedia sportiva, segna davvero uno spartiacque nel nostro modo di interpretare i grandi eroi dello sport, che diventano anche degli eroi tutti umani, umanissimi, come lo è stato appunto il pirata, tanto celebrato in vita quanto poi lasciato solo nel momento più critico e doloroso della sua esistenza, come spesso accade ai grandissimi, ai geni, in qualunque ambito della vita umana e sociale noi ci troviamo. Pantani quindi diventa un po' un simbolo di ciascuno di noi e di quanto le fortune e le sfortune possano davvero incidere anche sulla solitudine e la solidarietà dentro cui ci troviamo immersi, dentro cui ci troviamo a vivere, per questo lo ricordiamo ancora con tanto affetto e con tanta nostalgia e tristezza. Grazie a tutti, grazie a tutti.